Allora, buongiorno a tutti, benvenuti. Naturalmente questa è una conferenza stampa e quindi diamo spazio subito senza dati contenuti di un seminario come facciamo spesso al direttore generale, al direttore del Dipartimento Salute, il dottor Draisci per l'esposizione della materia. La giornata di oggi dà inizio a un intervento previsto nel piano operativo regionale di tutti gli interventi con fondi finalizzati PNRR. Oggi ci occupiamo della componente di investimento centrale operativa e territoriale che prevede all'interno del PNRR un investimento per 2.596.000 euro per la realizzazione di 15 COT disparse su tutto quanto il territorio regionale per ogni provincia. Queste 15 COT avevano come target la realizzazione di queste COT pienamente funzionando al 31 marzo, poi prorogato dall'unità di missione al 30 giugno. Tutti gli enti che in questo caso hanno in qualche modo collaborato alla realizzazione dell'opera perché gli enti territoriali, quindi le 5 AST territoriali, sono i soggetti attuatori esterni. Oltre all'intervento di tipo strutturale, quindi all'investimento di 2.596.000 euro, c'è un altro 1.066.000 euro per il sistema informativo che aiuterà queste COT alla realizzazione degli obiettivi che sono stati definiti nell'ambito di una DGR che è all'858. Queste 15 COT sono previste una per ogni distretto con la particolarità che nell'Asta di Ancona c'è anche una COT di rilievo regionale per cui ogni COT poi nella parte organizzativa ci sarà la professoressa Carla che ha redatto la delibera 858 che dirà in sintesi il funzionamento. Sono dispasse 3 nella provincia di Pestero Urbino, poi ce ne sono 5 nella provincia di Ancona, 3 nella provincia di Macerata, 2 nella provincia di Fermo e 2 nella provincia di Ancona. Nella realizzazione di questi interventi il tempogramma previsto dal Ministero per il raggiungimento del target prevedeva che a oggi le COT devono essere pienamente funzionanti, ma a monte, prodromica l'attività di funzionamento di queste COT ci sono tutta una serie di adempimenti, ovvero una serie di certificazioni che soggetti esterni all'amministrazione devono attestare il pieno funzionamento, aver almeno effettuato un paziente. Determinati questi risultati con esiti positivi da parte di un ingegnere esterno vengono recepiti in un atto proprio dell'ente e successivamente, quindi nella giunta di oggi, ci sarà una delibera di giunta che sancisce di fatto la certificabilità dell'avvio delle COT. Queste COT, come dicevo prima, hanno degli obiettivi che sono fotografati nel DM77 e che noi abbiamo in qualche modo recepito nella delibera 858 che la professoressa Carle ci illustra. Buongiorno a tutti, grazie direttore. Allora la delibera citata dà le linee di indirizzo agli enti per l'organizzazione delle COT in modo che sia assicurata l'equità e l'uniformità su tutto il territorio regionale. Come già stato accennato abbiamo 15 centrali operative territoriali di cui una di queste ha valenza regionale, ciascuna COT ha valenza distrettuale è operativa 6 giorni su 7 per un periodo di 12 ore e ciascuna COT distrettuale è strettamente interconnessa con la COT regionale. La COT regionale ha il compito fondamentale di garantire la continuità operativa del sistema territoriale delle COT distrettuali nelle fasce orarie giornaliere in cui le COT distrettuali non sono attive, ovvero è attiva 7 giorni su 7, è attiva 12 ore al giorno, è stendibile alle 24 ore su specifici progetti e programmi di intervento. L'obiettivo generale, come già detto, è quello di organizzare e coordinare la transizione delle persone residenti nel distretto tra i diversi setting assistenziali e diversi livelli organizzativi del sistema sanitario, sociosanitario e socioassistenziale, garantendo il coordinamento, l'ottimizzazione, la continuità e l'integrazione di tutti gli interventi. Quindi è veramente uno strumento strategico e, passatemi il termine, rivoluzionario. Si articola l'organigramma del personale, le COT sono in capo al distretto, quindi è il direttore del distretto che ne ha la responsabilità, ciascuna COT ha un coordinatore infermieristico e ha tre unità di personale infermieristico e un'unità di personale di supporto tecnico organizzativo di segreteria. Questa è la dotazione minima delle COT prevista dalla DGR che abbiamo citato, ma naturalmente la composizione e la numerosità di questo team all'interno delle COT potrà prevedere l'integrazione in futuro di altre figure professionali, in base poi anche all'evoluzione dell'attivazione. Come funzionano le COT? Le COT sono strutturate per assicurare, diciamo così, tre macro flussi che possiamo sintetizzare con tre parole chiave, ospedale, tre coppie di parole chiave, ospedale-territorio, territorio-ospedale e territorio-territorio. Il primo macro flusso, ospedale-territorio, è il flusso che dall'ospedale parte l'attivazione della COT, cioè l'ospedale di ricovero dove il paziente è ricoverato, parte l'attivazione della COT quando il paziente ha bisogno di quella che chiamiamo una dimissione protetta o con riguardo, ovvero c'è bisogno di che continui il percorso assistenziale, percorso assistenziale che può proseguire sia nelle strutture residenziali del territorio ma anche a domicilio attraverso l'attivazione delle cure domiciliari. Quindi la COT che cosa fa? Recepisce l'attivazione da parte dell'ospedale, attiva immediatamente l'unità di valutazione integrata che serve a definire il livello di complessità e di gravità del paziente per cui poi ritorna alla COT il piano assistenziale individuale e in base a questo viene individuata la struttura a servizio da attivare. Tutto questo è fatto di concerto e alla fine del percorso comunque viene informato il medico di medicina generale che ha in carico il paziente. Negli altri due flussi, negli altri due macro flussi, nel secondo macro flusso territorio ospedale è quando un soggetto che è già in carico al territorio per la sua complessità di salute, quindi è in una residenza protetta per esempio oppure in una RSA oppure è in carico alle cure domiciliari, ha la necessità, il suo percorso di salute si complica, e la necessità di un ricovero. Quindi la COT di nuovo si attiva per individuare sempre attraverso preferenzialmente il medico di medicina generale che è sempre il principale attore che ha in carico il paziente e che è anche presente nelle strutture del territorio e si attiva per individuare la struttura di ricovero più idonea. Il terzo percorso è quello più complesso, territorio-territorio, ovvero è la gestione del passaggio da un setting assistenziale all'altro nell'ambito del territorio, quindi per esempio da cure domiciliare a residenza protetta o al contrario, residenza protetta quando lo stato di salute è migliore si passa alle cure domiciliari. Tutto questo viene fatto attraverso una piattaforma a cui aveva già accennato il dottor Draishi, una piattaforma informatica che gestisce tutti questi passaggi in diciamo, a me piace usare il termine semi-automatico perché ovviamente la presenza degli operatori è strategica nelle scelte quindi chiaramente c'è questa piattaforma informatica a cui tutte le strutture che ho citato e che trovate nella DGR in dettaglio con tutte le loro denominazioni sono collegate tra di loro, quindi è veramente una centrale operativa che collega tra di loro tutto il patrimonio assistenziale che la Regione mette a disposizione per supportare, per garantire la salute dei cittadini. Io, se poi naturalmente ci sono domande specifici... Grazie professoressa, sottosegretario Saldi, prego. Sì, giusto due parole per evidenziare alcuni aspetti che già sono stati messi in evidenza dai direttori però volevo calcarli. Questa è una delle vere novità del piano socio-sanitario ed è una vera e propria cabina di regia nel gestire il percorso assistenziale nel territorio, ospedale-territorio che si fa sempre più complesso. Noi dovremo dare e abbiamo la possibilità di dare risposte graduate anche sul territorio e in realtà la nostra impressione è che questo sistema necessiti realmente di una cabina di regia perché cosa succede? Che è nozione comune che molti pazienti soggiornano in ospedale più a lungo di quello di quando in realtà nell'ospedale per acuti servirebbe loro perché non si riesce a trovare una collocazione assistenziale appropriata sul territorio. Questo comporta l'allungamento dei tempi di ricovero delle decenze medie soprattutto nei reparti medici che abbiamo verificato in tutti gli ospedali delle Marche e questo comporta il famigerato boarding in pronsoccorso cioè pazienti in pronsoccorso che non trovano immediata collocazione nei reparti interni dell'ospedale e quindi rimangono a carico del pronto soccorso per varie ore e talvolta anche per giorni. La nostra visione è che questo sicuramente migliorerà perché sicuramente potremo dare un'organizzazione più articolata all'assistenza territoriale e sicuramente nel mio modo di vedere potremo potenziare quella che è e in cui io credo veramente l'assistenza domiciliare. Probabilmente tutto questo richiede anche delle nuove regole che riscriviamo delle nuove regole soprattutto che prendano in considerazione i criteri di passaggio da un setting assistenziale all'altro che forse è l'aspetto più complesso e forse è la sfida che dovremo affrontare in questo periodo ma abbiamo uno strumento importante che ben utilizzato migliorerà l'assistenza e soprattutto migliorerà l'organizzazione dell'assistenza ospedale, territorio e sul territorio. Allora il Presidente Acquaroli non so se riesce a venire in questi ultimi minuti però naturalmente ci tengo a sottolineare che ha voluto coordinare e sottolineare il fatto che queste cotte sono state realizzate tenete conto che sono già entrate in funzione da diverse settimane in alcuni punti l'ufficialità e del primo luglio come da piano e quindi sono state testate già sono perfettamente funzionanti quindi dicevo è un target del PNRR che noi abbiamo centrato e il merito naturalmente è dei dirigenti quindi del Dipartimento Saúde dell'Ars ma soprattutto dei direttori delle aziende che sono qui presenti e che tengo e voglio ringraziare appunto per la loro puntualità naturalmente raccomando che analoga precisione sia rispettata anche per le case della salute e gli ospedali di comunità non so se i giornalisti devono fare ah scusate c'è anche non per caso chiedo scusa la senatrice Elena Leonardi naturalmente questa è una conferenza stampa regionale lei naturalmente ha fatto parte come sapete del Consiglio regionale ma attualmente è componente della Commissione Sanità del Senato della Repubblica e all'esame della sua commissione cioè il decreto legge appunto sulla lista d'attesa prego Elena se vuoi dire qualcosa grazie intanto ti ringrazio Filippo e saluto ovviamente eh tutti i dirigenti della componente tecnica oggi è una giornata sicuramente importante mi faceva piacere essere presente ti ringrazio di avermi voluta anche al tavolo ma dico solo che oggi è una giornata sicuramente importante un tassello aggiuntivo che si mette rispetto a una riforma della sanità a livello nazionale che soprattutto dopo la pandemia ha evidenziato come proprio la parte territoriale fosse quella in maggiore carenza e criticità si sta lavorando all'acremente regione governo per costruire questa nuova sanità e andare a intervenire proprio laddove sono emerse le maggiori criticità un lavoro sinergico e credo oggi dica anche con questo risultato come le attenzioni siano assolutamente massime i risultati stiano arrivando allora io non diciamo così essendo chiaramente una presentazione di un passo avanti enorme rispetto al passato come è stato detto non so se i giornalisti vogliono porre delle domande se non ce ne sono ci diamo l'appuntamento alla prossima al prossimo incontro naturalmente sui territori noi andremo a inaugurare queste cotte perché è opportuno che anche l'opinione pubblica si rende conto che questo è un tema centrale perché valutate anche il fatto che la piattaforma va a migliorare la condizione del digital divide che è presente nella nostra regione sotto vari aspetti a cominciare dalla rete dalla sottoposizione delle reti in fibra che Open Fiber e Telecom stanno sviluppando in tutta la nostra regione e in particolare in una zona sisma quindi noi possiamo parlare di piattaforme possiamo parlare di processi di digitalizzazione nella misura in cui l'infrastruttura che garantisce la digitalizzazione funziona e purtroppo noi stiamo cercando di recuperare anni di grande ritardo la stessa cosa è il tema del fascicolo sanitario elettronico che voi sapete c'è un investimento PNRR è tutto collegato però diciamo oggi la conferenza stampa è incentrata sul tema della realizzazione delle cotte e del coordinamento dei servizi non per ultimo l'individuazione dei posti letto voi sapete che la carenza una forte carenza che determina anche l'istri di attesa è la carenza di posti letto le centrali operative dovranno anche garantire lo smistamento la dimissione come diceva la professoressa Carle anche verso struttura che non sono necessariamente di riabilitazione curi intermedie e quindi questo richiede c'è stata la riunione stamattina la valorizzazione anche degli ospedali di comunità che fino ad oggi chiaramente hanno avuto un ruolo minore nella sanità ma non per questo meno importante grazie a tutti e buona giornata grazie a tutti